Ciao ragazzi Bentornati sul canale Come state? Spero che sia Tutto ok Bentornati Oggi Sabato Un nuovo video Ciao Potete immaginare il perché? Questo è un video In collaborazione Con il brand Iepoda Oggi Il brand Vi propone Una super offerta Per il periodo Natalizio E sono super contenta Di potervene parlare Spero che la luce sia Abbastanza buona Anche se oggi il tempo È molto uccioso Sono proprio Di fronte La finestra Quindi Questa è la massima Illuminazione Che sono riuscita A ricreare Quindi Spero Che si veda bene Il mio viso Perché Oggi Ancora una volta Voglio parlarvi Del brand Iepoda Della skin care Coreana Di quanto Abbiamo aiutato Negli ultimi tempi La mia pelle Il mio incarnato Sono super Entusiasta Di poter collaborare Con questo brand E di poter Utilizzare I loro prodotti Tutti i giorni Oggi Ho Per voi Prima di parlarvi Di nuovo Della mia skin care Con Iepoda Un codice sconto ASMR Natale Che vi lascerò Anche in descrizione Con il quale codice Potrete Acquistare Sul sito Di Iepoda Con un 20% Di sconto Sui vostri Prodotti Scelti E con una spesa Minima Di 69 euro Sul sito Iepoda Vi omaccerà Con una mini taglia Del prodotto The Bubble Double Che è il primo prodotto Che oggi Utilizzerò Insieme a voi E che vi illustrerò Tutti i dettagli Di questa speciale promo Di Natale Li lascerò In descrizione Come sempre Insieme anche Al link Diretto Per accedere al sito E cominciare subito A dare un'occhiata Ai prodotti Che propone Iepoda Iepoda È il The Bubble Double È un tonico Detergente Che sto utilizzando Tantissimo È ottimo Contiene acido Salicilico Quindi Protegge La nostra pelle Il nostro viso Da tutte le Imperfezioni Pulisce la pelle In profondità Da tutti i batteri Da tutte le impurità Acido Salicilico Ha un potere Super astringente Quindi È perfetto Anche per Chiudere tutti i pori Quelli più visibili Del nostro viso La formula È Schiumosa Quindi È perfetta Perché Tende A non seccare la pelle Come solitamente I tonici Invece fanno Quindi Un punto in più Per il nostro Bubble Double Double Sto come sempre Anche Il prodotto Luna Clip E la sua Applicazione Super consigliato Ragazzi Da Bubble Double Per me Super consigliato Mi aiuta tantissimo E Davvero Lo adoro Proprio Perché Non tira La pelle Non la secca Non da quella sensazione Di pelle Che dire Fantastico Subito dopo La detersione Con the Bubble Double Che Permette Di pulire la pelle Quindi Rendere più Efficace L'assorbimento Del resto Dei prodotti Della Skincare Utilizzo Mist Un altro Un altro Tra i prodotti Che preferisco In assoluto Ed è Un prodotto Idratante All'acido Iauronico Dà subito Una sensazione Di pelle Rimpolpata Quindi Anche questo Super consigliato Mi piace tantissimo E regala una freschezza Istantanea Pazzesca Bellissimo Perfetto Per pelle miste Pro Tre spruzzi Ed è perfetto Prodotto Che invece Ho quasi terminato Quindi Ne sto usando Davvero Poche gocce Ma tutti i giorni E credetemi Che fa Davvero La differenza E questo Per Repair Hero Siero Alla Niacinamide Probiotico Che aiuta Ad eliminare Tutte le macchiette Del viso Delle imperfezioni La cosa Che mi piace L'ho già detto Anche negli altri Vitti Ma lo voglio Sempre ripetere Perché Credo sia davvero Importante Ripeterlo E che ne passano Pochissime Gocce Passa davvero Un poco Di prodotto Per riuscire A tossufrire Di tutta la loro Efficacia Anche i pack Con questi Dosatori Sono davvero Fatti benissimo Fantastico In tutto ciò Ha cominciato Anche a piovere Fortissimo Quindi Sentirete anche Un bel suono Di pioggia In sottofondo Spero che Vi possa rilassare Dopo aver pulito Il nostro viso Dopo averlo Idratato Con un bel The mistahave Dopo aver Curato La nostra pelle Con i propri Otici La necinamide È il momento Di una buona Crema Giorno E io sto Utilizzando La make my day Cream Con un estratto Di olio Di jojoba È un profumo Buonissimo Delicato Questa qui Un pump La pelle Super idratata Non unge E dà una sensazione Piacevole E profuma Tanto Anche se I prodotti Sono tutti Naturali Le profumazioni Sono davvero Super avvolgenti Ve lo assicuro Quella crema E dopo aver applicato La crema Giorno Ultimo step Per una pelle Dall'effetto Glass The glow Hero Ultimo step Che prevede questa Skincare coreana Che sto effettuando In questo periodo Questo è un Siero Oleoso Pazzesco Perché dona All'incarnato Un glow Istantaneo Quindi Regala proprio Un aspetto Al nostro viso Di Super Salute Belle Brilla Dopo aver applicato Questo siro Oleoso L'impasta Anche meno Di una goccia Infatti Se notate C'è ancora tantissimo Di prodotto Perché davvero L'impasta Proprio Poco 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 Bellissimo Anche questo È idratante Ovviamente A questo siero E tutti questi prodotti Sono slow aging Quindi Perfetto Che come sapete Giusto Due giorni fa È stato il mio compleanno Quindi I prodotti Slow aging Sono sempre ben accetti E questo È il The Glow Hero Questa è la skin care Che sto effettuando Nell'ultimo periodo Negli ultimi Mesi Mi sto trovando Benissimo E Noto davvero Un miglioramento Assurdo Della Della mia pelle Del mio viso Ve lo consiglio Tanto Vi consiglio Di Testare Il brand Di provare Di provare I loro Prodotti E Questi codici Sconto Spero davvero Che possano Esservi Utili Per cominciare A testare Yeboda Recap ASMR Natale Al momento Del check out Sul sito Di Yeboda 20% Di sconto Spesa minima Di 69 euro Do Bubble In omaggio Nella versione Mini Approfittatene Ragazzi Se vi interessa Provare La skin care Coreana Di Yeboda E Detto questo Ragazzi Io vi ringrazio Di essere stati qui Spero vi siate rilassati Con questi suoni Con il suono Della pioggia Che è arrivata Improvvisamente Ci vediamo Nel prossimo video Vi aspetto E ricordate Sempre Di avere Ancora di voi Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.